L'Europa è il posto che i miei figli conoscono meglio dell'Italia, dove si va senza che ci siano confini, a passare il tempo, le vacanze, a studiare, a vedere una mostra, a sentire un concerto, è il nostro posto. L'Europa è il nostro posto, non c'è differenza tra Madrid, Barcellona, Londra, Parigi, Rouen, Vienna, se c'è qualcosa di bello da fare in uno di questi posti, qualcosa da sapere, un progetto di studio da seguire, si va. Quindi l'Europa è il posto dove noi viviamo, ma realmente è come se fosse casa, è la nostra casa. E poi è anche il posto dove si parlano le lingue più belle del mondo, allora è molto divertente viaggiare all'Europa cambiando lingua e accorgendosi di come si somigliano, ma sono in realtà poi così diverse. Ed è il posto dove ci si fidanza, dove si vanno a trovare le persone che si amano e dove a volte si vanno a salutare le persone che non ci sono più.